Ciao a tutti ragazzi da SGMC Gamers eccoci qua con un altro gameplay di Final Night Champion come potete vedere dalla grafica siamo al Metro Manila di Manila proprio e ci sarà un altro incontro dei pesi welter tra Manny Pacquiao e Shane Mosley il Pacman contro Shane Mosley e adesso vediamo subito chi la spunzerà in questi 10 round subito un lancio sinistro lancio destro ancora, destro sinistro ancora destro sinistro violento, perfetto ho preso col diretto anche con un diretto al corpo ancora Manny, ancora Manny destro sinistro, ancora destro sinistro violento perfetto, devastante destro sinistro ancora ancora un destro sinistro violento si è vicina ma lo prendo ancora col destro perfetto adesso si allontana perché si sta prendendo destro sinistro violento destro ancora destro sinistro un sinistro al volto evita il mio destro sinistro ancora al corpo e adesso in... ah grande destro sinistro in faccia via via così destro sinistro ancora di nuovo un sinistro ancora al volto ancora un altro sinistro destro sinistro adesso ancora ho preso il corpo destro sinistro violento al corpo ancora destro sinistro mamma mia che scambio destro sinistro ancora destro ancora per Manny ancora andiamo ancora un destro destro ancora al volto ancora un altro destro al volto senza esclusione di colpi ancora destro ancora violento destro violentissimo di Manny e adesso lega è già gonfio destro sinistro ancora un altro destro sinistro destro violentissimo questo l'ha sentito forte mi sta prendendo quei montanti al corpo e adesso ma lontano per Sugar Shane destra ancora un sinistro ancora destra ancora uh sinistro violento il peccato l'ho mancato al corpo non l'ho preso finisce il primo round perfetto bene si recupera ecco Manny subito il secondo round destro subito violento sinistro destro sinistro destro ancora sinistro ancora un destro sinistro mamma mia destro ancora c'è la guardia aperta continuiamo sinistro sinistro destro sinistro ancora mamma mia destro violento di Manny eccoci cioè non vediamo destro ancora c'è la guardia aperta sinistro destro ancora mamma mia destro ancora sinistro sinistro ancora sinistro ancora sinistro ancora uuuh anche al corpo anche mamma mia ancora si continua con grandi pugni mamma mia che botta montante peccato adesso destro violento l'ha sentito ancora questo ancora un destro sinistro ancora Manny destro ancora sinistro e adesso lega peccato non li lega perché se le sta prendendo troppe destro sinistro ancora ancora un sinistro ancora un destro sinistro vediamo se gli faccio aprire la guardia eccolo lì ancora un sinistro destro destro ancora sinistro apriamogli la guardia apriamo al corpo appena si appena si scopre un destro ancora un sinistro l'ha preso col montante peccato destro sinistro uuuh l'ho preso al corpo col diretto al corpo l'ha preso anche lui e adesso senza esclusione di colpi continuiamo destro sinistro ancora ancora un destro al corpo e un sinistro mamma mia destro sinistro vuole legare ma non ce la fa continuiamo destro sinistro ancora e finisce il secondo round uuuh l'otto sinistro è già bello gonfio ragazzi andiamo subito al terzo round che lo vogliamo saccagnare destro sinistro ancora destro ancora sinistro mamma mia che violenza destro sinistro ancora di me ha preso col montante peccato ancora destro sinistro destro sinistro sono esposto al suo montante però i miei i miei ganci fanno più male mamma mia destro sinistro ancora destro sinistro ancora e vito il suo ancora un destro ancora un sinistro destro sinistro destro sinistro ancora e c'è la guardia aperta e c'è la guardia aperta destro sinistro mamma mia lo sto saccagnando andiamo rischia di cadere rischia di cadere siamo al limite signori uuuuh mamma mia che botte ancora un destro se lo prendo con un destro giusto cade ancora lo sto lo sto saccagnando è ancora coperto destro sinistro appena si sbaglia adesso sinistro ancora il corpo destro destro al bordo ancora il sinistro un altro sinistro anche al corpo mamma mia sinistro destro grande menu mamma mia eccolo qua il destro eccolo qua un altro destro sinistro c'è la guardia aperta sinistro ancora anche al corpo destro sinistro e adesso lega uuuuh è tagliato è tagliato è tagliato Mosley è tagliato brutto mamma mia un altro destro violente un altro destro devastante altro destro sinistro sinistro ancora destro ancora sinistro destro ancora sinistro ancora un altro destro sinistro rischia di parcollare eh sì eh sì adesso si allontana perché se le sta prendendo troppe sinistro ancora svolto destro sinistro mamma mia vola al sangue ancora un sinistro ancora un sinistro appena si eh finisce il terzo round anche sta barcollando Mosley ferito Mosley feritissimo e sono anche sopra i punti giustamente destro sinistro subito gli riapro subito il taglio destro ancora destro sinistro con la guardia aperta ancora destro sinistro lo sto staccagnando come una zampogna cartegliamolo ancora vai così Pacquiao vai così vai Pacquiao vai Pacquiao frontale sinistro ancora mamma mia è fra me quel destro eccolo qua adesso sinistro ancora sinistro ancora evito il suo sinistro e lo prendo destro ancora destro sinistro sinistro corpo destro destro sinistro un sinistro destro e adesso lega di nuovo molto tagliato Mosley sinistro destro ancora appena si apre è finito eccolo qua destro ancora un sinistro ancora eccolo qua TKO ragazzi TKO per Pacquiao non è andato al tappeto ma troppo sanguinante troppo con gli occhi chiusi e Pacquiao vince al terzo round contro Shane Mosley questo incontro dei pesi welter al metro manila bene ragazzi spero che vi possa essere piaciuto come sempre da SGMC Gamers è tutto alla prossima ciao